Lorenzo Galli all'esordio al World Dubai Championship, ieri un giro in 72, oggi hai fatto meno uno, sei partito fortissimo sulle prime che hai fatto 33, poi cos'è successo? Raccontaci un po' il tuo giro. Innanzitutto devo dire che è un'esperienza fantastica per me essere qui, poi riguardo al giro di oggi sono partito molto bene le prime perché il pat mi è stato d'aiuto per convocare due pat da lunga distanza e poi ho giocato bene le seconde, ho sbagliato qualche colpetto, in più in parte magari c'erano le aste molto difficili per cui difficilmente spattava da vicino, ero sempre dei pat da 7-8 metri per cui è difficile anche imbucare. Senti a parte i big tipo García Mekirói tu sei quello che viene seguito un po' da un bel folto gruppo di spettatori perché ci sono un sacco di soci dell'Ugolino che sono venuti, hanno fatto praticamente un gruppone, sono in 60 se non sbaglio. Senti che è un'emozione in immagino particolare. Mi fa molto piacere sicuramente, più che altro mi aiutano anche in campo, magari nei momenti un po' più difficili mi stimolano, comunque mi applaudono anche quando magari faccio delle cose buone. Senti sei soddisfatto, ti sei posto degli obiettivi per un risultato finale o quello che viene da questa esperienza? L'obiettivo principale è cercare di dare tutto dall'inizio alla fine senza lasciare nessun colpo, senza cercare di non regalare molti colpi per distrazione o per altre cose. cerco di dare il meglio, poi se viene è bene e se non viene va bene lo stesso, l'importante è aver dato tutto. Ultima cosa, cosa ti è piaciuto di più del tuo gioco in questi due giorni e quello che invece è un po' da registrare? Ma devo dire che ho migliorato in questi due giorni, ho migliorato molto il sand, il chip intorno ai green, cosa che durante tutto l'anno magari è stata un po' carente, però ho lavorato molto con il mio maestro anche due settimane fa che è venuto a Firenze, per cui sono molto contento di questa cosa e mi servirà sicuramente il prossimo anno. Questi due giorni, ma niente, è abbastanza regolare, oggi ho sbagliato qualche colpo in più, gli ho arrabbiato forse meglio da tia green, oggi ho sbagliato qualche colpetto in più, però magari ho messo due patte in più, però a lunga distanza. Chi vince questo torneo? No, penso neanche voi. Grazie.